La polizia di Stato Non conoscerete mai l'identità degli agenti infiltrati Avete qualche infiltrato da Costello al momento? Forse Tu lo sai chi sono? Forse no Devo chiedere al mio socio di perquisirti Ha fatto presto, sarà già morto Potremmo inventarci qualcosa Siamo convinti che Costello abbia almeno una talpa nel reparto investigativo speciale Ci sono cose del mio lavoro di cui non ti posso parlare Tu sei pericoloso Non immagini quanto Sarà meglio che ti organizzi e alla svelta Se non sbaglio l'ultima volta ti ho dato la dritta e non sei in galera Ho la sensazione che ci sia un poliziotto tra i miei uomini Prima o poi scoprirà chi sono e mi farà fuori Sta calmo, noi siamo gli unici a sapere che sei un poliziotto Io ti trovo la tappa, solo che devo fare a modo mio Se non la trovi non sarò certo io a rimetterci Mi stai mentendo? Ci sono cose che è meglio che tu ne sappia Ma che aspettate? Volete che mi faccia pezzi e mi dia impasto ai porci? È questo che volete? E' questo che mi faccia pezzi e mi faccia pezzi